Ciao a tutti da questo YouTube di Sandro. Oggi guardate dove ci troviamo. Siamo all'esterno del Palazzo Scintille, in piazza 6 Febbraio a Milano, dove sono stato per effettuare la terza dose di vaccino. Qui entriamo nella galleria molto bella e devo dire anche abbastanza di lusso del City Life. Queste sono le torri che abbiamo presente, un'opera ingegneristica notevole. Questo è ancora l'ingresso del retro del Palazzo Scintille, qui alla nostra destra entriamo nella parte di negozi del City Life, molto bella e molto di lusso. Aldo se mi ascolti hai visto che sono riuscito a venire a visitare questo bellissimo posto. Ho dovuto venire proprio in occasione del vaccino. Comunque bene anche questo e ammiro questa stupenda torre immensa con la la sua curva. Guardate che bellissima opera ingegneristica. Ora ci affrettiamo a fare questo bellissimo percorso e dopo aver fatto questa terza dose andiamo a pranzare qualche cosa, almeno uno spuntino. Vi saluto da questo YouTube di Sandro. Saluti anche al mio amico Aldo che mi segue sicuramente. Ciao Aldo.